Musica I nostri amici del Pentaword Anocera Inferiore hanno dato inizio alla grande avventura di nome, benessere e divertimento. Sì, qui alla Pentaword in mia compagnia abbiamo Antonella e Lucia, con loro cercheremo un po' di capire quando verrete qui, cosa potrete fare di quei servizi di cui potrete chiaramente godere, quali sono e in che modo vi accoglieranno. Io innanzitutto Antonella e Lucia vi do il benvenuto, come state? Ciao, tutto bene, buonasera. Trascorse bene le vacanze? Benissimo. Night and Day vuole questo evento notturno, ma in realtà gli orari della Pentaword sono davvero spaziano, vogliamo ricordarli. Allora, noi siamo qui dalle 9 di mattina fino alle 23 di sera, è orario continuato, abbiamo vari corsi, la nostra formula è open, in pratica con la retta che si paga si può soffrire sia della sala che dei vari corsi. Venite a visitare comunque. Accoglienza! Quante ragazze ci sono! Tante ragazze, belle ragazze, assolutamente. Dunque un modo per potersi incontrare, perché c'è un punto bar dove magari se la serata è uggiusa, la mattinata è uggiusa, si sta al bar, si gusta qualcosa, si sta bene, tutto analcolico, scommetto, tutto macrobiotico. Si, si. Si inizia da subito, preparate il vostro borsone, pronti a godere di momento di sano benessere, di sano divertimento, sempre in compagnia qui della Pentaword. Noi vi aspettiamo, ci troviamo in via, via ad Alessandro, numero 43. Lucia, non ti distrarre, per gli infoline, chi dobbiamo, ecco? Le informazioni, appunto. Allora, dalle 9 di mattina in poi sono qua, quindi anche telefonicamente, 517 13 39. Lo vogliamo ripetere. 081 517 13 39. Ad ogni modo vi omangiamo di ingresso, venite qui al centro e scoprirete con i vostri occhi il tutto. Ciao! Noi vi salutiamo, vi aspettiamo qui, non vi resta che venire, alla Pentaword. Un bacio! E alla direzione della Pentaword, naturalmente immancabile, una voce che tanti conoscono, ma adesso ha anche un volto, perché ha il ruolo di direttore di questa palestra qui a Nocella Inferiore. Carmine Gaudino, io ti do il benvenuto da Night in Day, anche pomeriggio, anche mattina, insomma, veramente ovunque con la tua professionalità. Io ti dico due parole, ho letto il tuo nome, ne sono rimasta orgogliosa, perché secondo me mi dirai tante cose interessanti per tutti gli amici che ci seguono da casa, che avranno bisogno di rimettersi in forma dopo, magari un relax durato fin troppo durante le vacanze d'estate. Vacanze meritatissime, adesso si deve cominciare a lavorare. Siamo a 24H, lavoro già per voi, possiamo dirlo in riferimento come centro fitness a Nocella Inferiore. Quella che vedete qui è una sala di, direi, la novità, cosa che l'anno scorso ha avuto un gran successo. Ed è una cosa molto interessante, ma soprattutto mi piace aver notato che si può venire alla Penta World durante l'intera settimana in tantissime fasce orarie, perché tu sei sempre presente, ti vedo lì nella programmazione di mattina, di pomeriggio, durante la pausa pranzo, la sera. L'ultima lezione mi sembra un orario bisso alle 21. 21 e 30. Sì, diciamo che il nostro obiettivo è quello di coprire tutte le fasce più interessanti, quella del mattino, dopo la pausa pranzo, che è molto richiesta, e dalle 6 in poi fino a tardi serata, fino alle 21 e 45, addirittura uno dei due corsi a settimana, noi siamo presenti sempre. La palestra 24H, anche perché lavoriamo e accogliamo i clienti in un determinato modo, ci interessiamo sia nella progettazione, quella che è programmazione tecnica, e anche ludica. Ludica, di fatti, perché c'è un punto bar dove poi... Per i clienti, assolutamente per i clienti, dove... Mi hanno detto che durante l'arco dell'anno saranno organizzati degli eventi, veri e propri. Dove Night in Days era presente, assolutamente presente. Un bacio agli amici, ciao. Vi aspettiamo, non c'è l'inferiore? Assolutamente sì, via D'Alessandro, 43. Vi aspettiamo, ciao.